Per il stesso 27.06 che regaliamo tutti insieme a Don Antonio Mazzi prima di cercare il nostro prezzo di questo buio di 8 di genere con una buona immacolata a tutti ovviamente con un pezzo di mani come anticipato, come promesso perché ci sono anche chiesto in tantissimi e chiaramente il vino per un altissima e direttamente il giro di mani